MuseCore è un software di videoscrittura musicale. MuseCore ti permette di scrivere partiture in maniera elegante e professionale, il che è una competenza fondamentale per un musicista. È un'applicazione gratuita e funziona su tutti i computer, sia Windows che Apple. Sono Paolo Boracchi, musicista e docente del corso di MuseCore su Namo Online. Ho usato MuseCore per anni, sia durante i miei studi musicali che nella mia vita professionale, realizzando le mie composizioni, i miei arrangiamenti, producendo materiale didattico e trascrivendo centinaia di canzoni. Grazie a MuseCore ho potuto lavorare come un professionista tra i professionisti della musica. Lavorare in studio, suonare in una band con un vasto repertorio, trascrivere, arrangiare, comporre, scrivere esercizi, in tutte queste attività lo spartito è essenziale. Con MuseCore puoi scrivere e stampare spartiti in qualità professionale, preparare un repertorio vasto in breve tempo, realizzare arrangiamenti, trascrivere agilmente canzoni e frasi musicali. Ascoltare tutto ciò che scrivi. In questo videocorso online seguirai un programma studiato nel dettaglio, con la qualità di un'accademia certificata come NAM. Acquisirai tutte le basi necessarie per lavorare con disinvoltura su MuseCore e far diventare questo potente software uno dei tuoi strumenti di uso quotidiano. Parleremo di inserimento di note, testi, notazione ritmica, tablature, scrittura per molteplici voci ed impaginazione. Se sei uno strumentista o un cantante, imparerai a scrivere velocemente e a creare spartiti di facile lettura. Se sei un compositore, troverai consigli per la scrittura di arrangiamenti, ensemble e core. Se sei un insegnante di musica, potrai scrivere gli esercizi per i tuoi allievi e inviarli con un semplice messaggio. Grazie ad esercizi mirati, saprai usare velocemente i comandi di MuseCore e scrivere il tuo spartito digitale. Avrai sotto le dita gli shortcut più utili ed avrai una chiara panoramica delle incredibili funzioni di questo programma. Al termine del corso, potrai sostenere un esame finale e ottenere così l'attestato di NAM online. Sono Paolo Boracchi e questo è il mio corso online di MuseCore. Grazie a tutti.